Riapre con una nuova veste il giardino di Villarus Polichiuso dallo scorso novembre per lavori di restauro. A rigenerare questo spazio verde della città sono stati i cittadini dell'Associazione Amici della Terra con il loro progetto vincitore del bando Paesaggi Comuni della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con il Comune e con gli Angeli del Bello. È un posto veramente di straordinaria bellezza che merita di essere vissuto. Qui veramente si può venire con un libro, con un bel picnic, con la famiglia, con il proprio cane, c'è un'oliveta straordinaria, un cedro libanese che è un monumento veramente della natura e tanta quiete, tanta pace, quindi merita di essere vissuto. Io ringrazio gli Amici della Terra e tutte le associazioni che hanno collaborato, che hanno partecipato al bando Paesaggi Comuni della Fondazione Antecasa di Risparmio e hanno riaperto questo spazio che davvero merita di essere vissuto anche camminando, anche proprio stando sotto questi bellissimi alberi e quindi davvero grazie. Spero che sia l'inizio di un percorso di educazione ambientale, di rispetto della natura e anche dei tempi della natura perché qui, come dire, si sentono gli uccellini, si sente veramente quell'equilibrio e quell'armonia che fanno bene a tutti e fanno bene anche alla nostra anima. Grazie.